a roma c'è la viaggio e vedo e che agenzia da vent'anni parti in allegria paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza e sai perché perché di meglio non ce n'è te li presento credi a me piera con la sua professionalità ti fa stagiare il mondo c'è proprio come in un papà una qualità la cortesia solo lei ti fa partire per una vacanza c'è e non ti viene manca manca al divancio a roma c'è la viaggio e vedo e che agenzia da vent'anni parti in allegria paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza e sai perché perché di meglio non ce n'è te li presento credi a me alessandro per la verità ti fa il biglietto per volare che è la sua specialità lui gira il mondo prima di te così prenoti e credi a me ti fa sentire come un re a roma c'è la viaggio e vedo e che agenzia da vent'anni parti in allegria paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza e sai perché perché di meglio non ce n'è te li presento credi a me poi c'è già luigi e che vuoi fare uno piazzato ci doveva stare lui il mondo l'ha ingoiato per la verità ma prenota i suoi weekend e te fa sentire la felicità a roma c'è la viaggio e vedo e che agenzia da vent'anni parti in allegria paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza e sai perché perché di meglio non ce n'è e che stai aspettando il santo e ti parto vola buongiorno buongiorno carissimi amici all'ascolto buongiorno da già luigi vi piace e vedo oggi è il 20 di aprile e ci ha fatto veramente piacere che constatate in questi giorni che ci avete seguito in tanti e questa è una cosa simpatica posso intanto raccontarvi che in questo momento sta diciamo piovendo sulla capitale ma è soltanto una cosa passeggere intanto bisogna cominciare con i saluti come sempre perché ringraziare chi è l'ascolto è il nostro dovere viaggio e vedo insieme ai microfoni radio dimensione stereo racconto il turismo è una trasmissione ormai che dura da sei mesi e ci ha dato tanta soddisfazione soprattutto per le informazioni che riusciamo a dare intanto saluto Marco che mi dice che sta per uscire perciò buona giornata al mio amico che è Dano Masi che anche lui è uno speaker come me mi dà comunque supporto e consigli la mia amica Elena di Travel Quotidiano che è una giornalista molto in gamba e anche mi fa piacere fare gli auguri di buon compreanno al mio amico Angelo Gianfermi che oggi fa 65 anni caro Angelo tanti tanti auguri di buon compreanno insomma diciamo di passare una festa con la famiglia in maniera serena e tranquilla posso anche fare gli auguri per i 36 anni di Andrea Pecchi il mio amico collega aeroportuale e poi anche Giuseppe Di Gaeta insomma siete tanti veramente tanti grazie ancora per la stima l'affetto ogni volta prima di partire in trasmissione sia io che Ivan e non sappiamo mai da che parte cominciare per ringraziare le persone che ci ascoltano perché comunque ogni trasmissione ha bisogno comunque di un pubblico senza di voi noi non saremo qui e questo la dice lunga sul rispetto della Viaggio e Vedo che ha e Radio Dimensione Stereo che hanno per i propri ascoltatori questa trasmissione ha come obiettivo di dare informazioni sul turismo ogni volta si racconta delle novità e ci sono interventi esterni da parte di guide, operatori, esperti del settore agenti di viaggio e anche amici comunemente che possono tranquillamente chiamarci quando vogliono vi do tanto i numeri della diretta così perlomeno entrate in contatto con noi quando volete senza nessun problema potete mandarci un sms ai numeri 393 06 70199 oppure per parlare con me in diretta 06 9354 7122 oppure volete le ultime novità su quello che facciamo come agenzia di viaggi potete chiamare l'agenzia Cepiera questa mattina che saluto con tanto affetto risponde ai numeri 06410 3636 oppure 06410 1680 o se vi viene meglio andatela a trovare in via a Bartololungo uno al quartiere di Erbibbia proprio vicino alla metropolitana dunque è veramente facile raggiungersi anche attraverso il sito web www.gliajeveto.it è a vostra disposizione come la pagina facebook dove ho in protto mano per potervi rispondere ai vostri commenti allora stamattina come organizzeremo ecco stamattina è cominciata che cerchiamo di metterci in collegamento con la mia amica che sta accompagnando un gruppo verso Aquileia dunque nell'alto Trentino vediamo se ci riusciamo perché so che sta accompagnando un gruppo di Latina e con Andrea con Ivan Passi ci stiamo allottando con il cellulare per riuscire a entrare in contatto con loro perché in quella zona è abbastanza difficile raggiungere però non molliamo dopodiché facciamo anche un commento con Enrico il nostro esperto fotografo sul montaggio dei video poi parleremo del turismo quello religioso con Bisano Unbiaggi del mio collega della Puglia e poi invece andremo ancora più tardi qui andremo nell'estremo Salento nella provincia di Legge per raccontare il barocco e ancora le ricette del Brucia Patello il nostro amico ristoratore qui di Roma che ospita in maniera sempre elegante e soprattutto li fa star bene di far mangiare di far mangiare molto i miei i miei ospiti o poi anche un saluto che fortuna non mi sono dimenticato alla mia amica Daniela e il suo marito Cristia e il piccolo Massimiliano che viaggio e vedo sta ospitando loro vengono da Bolzano stanno visitando Roma con i pacchetti Roma essenziali e in Roma vedo l'anno anche il tour quello delle terrazze romane che facciamo come come esclusiva della via Gebedo infatti alle 7 del mattina eravamo sul Giannico una una storia di Roma fantastica sono rimasti stracontenti e questo insomma ecco il nostro modo di fare di fare turismo e di darci comunque un segnale di come si fare con questo lavoro e a contatto con i clienti a contatto con la gente e passa sicuramente dei minuti fantastici insieme a loro so che siamo in collegamento roberta buongiorno mi senti pronto roberta no l'abbiamo ecco roberta mi senti pronto non riesco eccola lì roberta buongiorno come stai buongiorno buongiorno a voi mi fa veramente piacere sentirti senti io so che stai accompagnando un gruppo ad aquileia che tempo fa lì che come avete trovato c'è sole da voi sì buongiorno allora oggi sono con un gruppo di latina in quel di aquileia ieri stavamo a trieste è stata una giornata bellissima con qualche intoppo diciamo così legato alla viabilità mi scuso per i rumori di rispondo ma siamo all'esterno e ogni tanto passa qualche macchina e vabbè noi noi li perdoniamo mi ricordo che qualcuno ci ha fatto carriera su rete 4 con le macchine che li passavano dietro se ti ricordi come cronista perciò va più che bene senti permettemi anche di salutare i tuoi ospiti buongiorno ai miei amici di latina come state sì allora il gruppo di oggi è di latina adesso si sono un po sparpagliati ah ecco metto un attimo il viva voce vediamo se riesco a recuperare la chiave gruppo per far vedere come vedete amici questo è il bello della diretta entriamo dentro le escursioni addirittura per vedere fare vediamo si ritorna la signora mi fa veramente piacere così riusciamo a parlare con la nostra eccola eccola che arriva la signora Edda eccola qua eccola l'abbiamo i microfoni buongiorno signora Edda come sta? buongiorno bene lei come sta chi è lei? è Gianluigi ci vedo dalla radio da Roma latiamo signora visto che brava la Roberta che bella guida è bravissima stavo parlando proprio adesso nel bar che è preparatissima è lo so gli piace proprio il mestiere che fa noi ci colleghiamo spesso con lei per raccontarci il nord Italia le sue capacità sono sempre straordinarie oggi quando mi ha detto che aveva voi io chiaramente come radio da Roma dico cavolo che bello diamo i miei concetti diciamo conterranei dalla latina e che stanno visitando una splendida città che è quella di Aguileia che ha ospitato anche Augusto come imperatore comunque avete un vero da fare oggi e poi con una guida come Roberta oggi abbiamo visto i scavi qui l'antico porto fluviale adesso andremo a vedere la cattedrale la cattedrale di Aguileia e più tardi Grado quindi va bene Grado che poi la città da dove proviene la nostra amica Roberta che sicuramente Sì Roberta Vi farà star bene signora Edda Sarà una bella giornata per lei per i suoi ospiti per gli amici che si portano in vacanza Senz'altro Ecco allora io ma niente mi ha fatto veramente piacere chiamarla da lì qui noi trasmettiamo da sotto i castelli romani da Frattottie è vero delle persone che da Lazio si sono andate Da certo attratti eh Eh beh state abbastanza lontano poi mi ha detto Roberta che insomma c'è tempo così e così Allora io la ringrazio di essere venuta a testimoniare la validità delle persone esperte come Roberta che fanno questo programma di turismo ha fatto veramente piacere Signora mi ripassa Roberta che la saluto arrivederla signora buona vacanza Buona giornata grazie grazie arrivederci Arrivederci signora Edda Pronti Eccoci qua visto la signora Edda era un po' emozionata un po' insolita noi siamo abituati a parlarci attraverso i microfoni della radio lei un po' meno Adesso stiamo cercando di radunarlo di nuovo abbiamo fatto una causa caffè tecnica diciamo così Come sempre Prima di entrare in basilica Adesso li devi far spiegare i cellulari e poi senti mi dici velocemente che cosa vedranno i nostri amici all'interno della basilica in questa città che ha ospitato anche Dico se mi racconti cosa vedranno gli amici Ancora il collegamento? Sì sì a voglia ci sei Non ti sento più Ci sei aspetta vogliamo un po' se è una questione di cellulare anche qui Io ti sento bene Roberta mi senti tu? Io adesso mi sono spostata qui vicino ad Aquilei abbiamo anche l'aeroporto Adesso va meglio Adesso va meglio Eccomi qua sto ferma dove sono adesso Vabbè ma d'altronde è anche normale Voglio dire il tempo a Roma è quello che è Lì tu sei mio è normalissimo che possa accadere questo Le cellule di cellulare lo sappiamo benissimo ormai da tanti anni Chi lo usa è questo Ti dicevo Roberta ce la puoi descrivere un po' alla cattedrale Che cosa vedranno i nostri amici di Latina in questa città? Senti? Pronto? Ecco Rico Roberta ti dicevo la visita all'interno della cattedrale Cosa vedranno questi signori all'interno? Allora vedranno un pavimento a mosaico esteso per 750 metri quadrati Poi vedranno degli affreschi del decimo secolo E soprattutto il soffitto che è una tarsia a linea Praticamente con delle mattonelle fatte di vari tipi di legno A ricreare una sorta di cielo stellato con circa 10.000 stelle Ma è vero? Se pensiamo agli anni che ha è una cosa fantastica Eh sì il tetto in effetti è della seconda metà del 300 E sono tutte Immaginate delle piastrelline di legno tutte fatte a mano Usando tipi di legno diversi per sfruttarne il colore Esattamente come per il mosaico si sfruttano pietre, marmi Di vario genere per sfruttarne il colore naturale Non è dipinto voglio dire Certo certo e questo è quello che dicevamo sempre Il valore della guida che porta a spasso Ci fa ecco le persone Da questo devo aver raggiunto Perché magari qualcuno avrebbe visto Magari gli sarebbe anche piaciuto Ma non sapeva neanche che era tutto legno Cioè che giocavano con i colori del legno A secondo il materiale Per poterne poi tirar fuori Una specie appunto di fotografia dell'epoca Perché ricordiamoci sempre Certo ma questa è una cosa che naturalmente Io consiglio sempre Ovunque si vada Veramente in Italia Ma anche all'estero Io conosco tanti colleghi Dall'Asia all'Africa all'America Veramente fare una visita guidata Almeno una volta Ti aiuta a orientarti A capire meglio quello che vedi Poi dopo uno può fare anche la passeggiata Per conto suo naturalmente È giusto che sia così Ma il supporto di una guida Andando in giro Specialmente per la prima volta in un posto È molto utile E non costa tantissimo Certo No no ma sicuramente Ma poi ne vale la pena anche perché Tornare a casa Perlomeno ad aver capito qualcosa Ecco Che spesso e volentieri Purtroppo si va No? Ma certo ma io faccio sempre l'esempio Che è capitato a me La prima volta che veni a Roma Visitai Castel Sant'Angelo Non avevo assolutamente idea Di che cosa c'era dentro Quindi quando sono tornata a casa Mi sono andata a rivedere E ho detto Mai più Della serie Se posso La prossima volta Che vado da qualche parte Cerco di avere sempre Il supporto di qualcuno Per non girare poi Così Appunto a non capire niente Certo certo No ma devo dire Che è determinante Anche per avere poi un ricordo Come si deve Della cosa Intanto Da Modena Ci continuano a salutare Ciao Gianfranco Gianfranco Perriciari Il nostro carissimo ascoltatore Come vedi Siamo seguiti Eh Roberta Bisogna pure fare attenzione Perché se diciamo una cosa Che non va Qui ci bacchettano Noi diciamo Sulla pagina Facebook Di Viaggio e Veto Sto ricevendo i commenti E mi fa piacere Sapere che comunque È un È apprezzato Senti allora Io ti lascio andare Al tuo gruppo Ti auguro una buona giornata E grazie ancora Per aver commentato con me Grazie a voi Per la gradita sorpresa Adesso recupero gli ospiti E entriamo in Basilica Dove naturalmente Spegnerò il cellulare Mi sembra il meno Per cui Buona giornata a tutti Anche a chi vi ascolta Naturalmente Grazie Roberta Ciao e grazie Un piacere Roberta Ciao Allora Avete visto Ecco Entrare in diretta In queste circostanze Significa vivere il programma Allora Lo viviamo in fondo Perché adesso Dopo una piccola Piccolissima pausa Rientreremo in studio E faremo un collegamento Con il nostro amico Della Puglia Michele Che ci racconterà Il turismo religioso In quella parte D'Italia Tra pochissimo State con noi Andiamo al mare Al sole A correre nell'acqua Si va Si va Si va Col sole Che ride Sul mare Chiamiamoci per nome Si va Si va Si va Siamo tutti qua E quest'estate Saremo un po' pazzi Che male non fa Sale Sale Il sole Si ferma E non si muove Finché c'è E per te Sai animazione Ti scordi l'ombrellone Lì dov'è Sai perché L'immaginazione Ancora più veloce Quando c'è un cavale Che passano le ore In quest'estate Incancellabile Salsare Ballare Sognare In spiaggia Con il mare Si fa Si fa Si fa Un suono Una voce Ci vuole E' l'ora di volare Si va Si va Si va Siamo tutti qua Con la magia Di una nuova tornata E' semplicità Sale Sale Il sole Si ferma E non si muove Finché c'è E' per te Sai animazione Ti scordi l'ombrellone Lì dov'è L'immaginazione Ancora più veloce Quando c'è un cavale Quando c'è un cavale Che passano le ore In quest'estate Incancellabile Sale Sale Il sole Si ferma E non si muove Finché c'è E' per te E' per te Calare Passano le ore In quest'estate Incancellabile Eccoci qua Buongiorno a tutti i radioscoltatori Molto bene Grazie Grazie Ci porti un po' di sole Illuminici un po' Perché a Roma Sta piovendo Come Diciamo Raccontaci questo Turismo religioso Con cui oggi Parleremo Per questi Dieci minuti Insieme Di che cosa E' appunto L'impuglia Il turismo E che cosa Vuol dire Appunto L'immagine Di Padre Pio Che poi E' Diciamo Il punto Principale Si sicuramente Viene considerata Viene considerato Il punto di riferimento Per tutto ciò Che ha a che fare Con i viaggi religiosi Laddove la Puglia E' una regione Estremamente ricca Di luoghi Sacri Sicuramente La figura Di Padre Pio Rappresenta Forse Il punto Di maggiore Attrettività Per quanto riguarda Questo genere Di viaggi Ok La figura Di Padre Pio E' nota Naturalmente A tutti Il fraticello Di Pietralcina Abitato A San Giovanni Rotondo Per oltre 40 anni E lì E tra l'altro Vi è morto Certo Per cui Diciamo L'itinerario Per Pellegrina Si Ah ecco Abbiamo Abbiamo perso Michele Purtroppo Provo intanto A rimanere Lui parlavamo Appunto Di questo Personaggio Che appunto Era Padre Pio Che Io ho avuto La fortuna Di visitare La sua Ecco Michele Ecco Mi senti Adesso Eh così No Avevo perso Per un attimo Si stavo Raccontando Che appunto Siccome Anche Mia moglie Che è di Benevento Dunque E' Paduri Questo paese Attaccato Alla Appunto Alla Vicino alla Piana Dove è nato Dove era Pietralcina Eh Ho avuto modo Di vedere La casa Dei genitori Ho avuto modo Di vedere L'albero Dove appunto Lui pregava E i sassi Sopra cui dormiva Quest'uomo Che ricordiamo Nel 1916 Era Praticamente Un piccolo frate Nulla più Poi invece Si è dimostrato Il grande uomo Che era E soprattutto La visione Di quest'uomo A me ha colpito Perché era Era un futurista Con la sua testa Era già avanti Rispetto all'epoca Non so se tu Concordi con me Michele Questa Concordo Concordo pienamente Concordo pienamente Eh Sebbene Tra l'altro Considerato un po' Un frate Burdaro Per Il carattere Un po' Irrascibile Scontroso In realtà Insomma È stata Una figura Che ha donato Amore Sollievo A migliaia Di persone Non per niente Probabilmente La sua più grande opera È stata La realizzazione Di un mega ospedale Lì a San Giovanni Rotondo Noto a tutti Come la casa sollievo Della sofferenza Certo Forse rappresenta Uno dei poli Ospedalieri Più grandi Che abbiamo Nel meridione Cioè Ma soprattutto Appunto Voi Sarebbe da Pensare Quando si parla Di questi personali Ecco Ti sento Ti sento bene Michele Io Sì Ecco Ti dicevo Sarebbe da pensare No? Vista Questa cosa Dietro nel tempo Parliamo Del Subito Del dopo guerra Questa persona Che vedeva In un nulla Vedeva la mega struttura Che oggi Dunque Immaginiamo Nella testa Di quest'uomo Nel progetto Che cosa aveva È questo Che deve stupire A volte Un po' Ecco Proprio in questo Periodo pasquale Poi Ricordiamo Che domenica C'è anche La beatificazione Dei due papi A Roma Dunque È proprio Un momento giusto Per parlare Di uomini Che hanno fatto Del bene Che hanno vissuto Per fare del bene Agli altri E magari E magari anche Perché Anche questa parte Rientra nel turismo Religioso Ma andarci sempre Per conoscere Prima di tutto L'uomo E credo Che in questo Padre Pio La racconti Giusta Senti Io so benissimo Come lavoro E chi sei Però Se dobbiamo raccontare Una giornata tipo Della Bisa Non Viaggi Per quando programma Il soggiorno Verso San Giovanni Rotondo Possiamo raccontarla Insieme? Sì Di solito Il programma tipo Per Diciamo Un pellegrinaggio Nei luoghi Santi Del Gargano Prevede appunto La sosta Al mattino A San Giovanni Rotondo Per la visita Dei luoghi Di Padre Pio Dove c'è La possibilità Di andare A visitare Prima L'antico Santuario Di Santa Maria Delle Grazie Dove c'era La chiesetta Piccola Dove Padre Pio Diceva Messa Per poi proseguire All'interno Del piccolo Convento Andando a visitare I luoghi Più celebri Tra cui La cella Di Padre Pio Il luogo Dove Padre Pio Ricevette Le stilmate Sotto la croce Antica E Diciamo Dove è morto Padre Pio Ah sì La cella Questo è stato L'itinerario Diciamo Per Tanti Anni L'itinerario Tipo Al quale Si è giunto Da 7-8 anni A questa parte L'apertura Del maxi Santuario Progettato E realizzato Dal famoso Architetto Renzo Piano E dove Attualmente E' esposta In maniera Permanente La salma Del Santo Ma io mi ricordo Questo Personaggio Che Praticamente Ti leggeva dentro Ancora prima Che tu T'avvicinassi In poche parole Ed era Come è stato Più volte Fatto vedere Nella Nelle fissione Che l'hanno Rappresentato Anche con L'incontro Con Papa Giovanni Appunto Papa Otiva Anche se era un sacerdote Lui già vedeva Dentro l'uomo E questo Appunto Secondo me E' uno dei motivi Per andarle a vedere Senti Una domanda Che poi Noi sappiamo bene Che quando organizziamo Le nostre gite Insieme a te Con la Bisano Un viaggio Noi lasciamo Il tempo libero A tutti Non facciamo Le famose Pentolame Che io detesto In proprio In prima persona Le gite Che si fanno Con la viaggio In vetro Da Roma Si parte con il bus E si arriva Sul posto E tutto il tempo Ripeto Tutto il tempo Per gli ospiti E' dedicato Alla visita Al santuario Al tempo libero Per la loro Curiosità Per andare a scoprire I luoghi E nessuno Li terrà mai Seduti in una sala D'albergo A raccontargli Qualche altra cosa Sarebbe proprio Anche contrario al principio De Padre Pio Se tu Non so se te lo Assolutamente Si Ecco perché Ma d'altra parte Diciamo Il comprensorio Dal punto di vista Religioso Offre talmente Tante opportunità Che perdere tempo Diciamo Appresso a dimostrazioni Di vendita Sarebbe oltretutto Inutile Controproducente Perché come dicevo Nell'itinerario classico In abbinamento Alla visita Di San Giovanni Rotondo Che solitamente Si effettua la mattina Il pomeriggio Ci si trasferisce A 20 km Di distanza In un paese Altrettanto Bello e famoso Per la presenza Della grotta Santuario Dell'Arcangelo San Michele E' il santo padrono E' il santo padrono Di tutto il gardiano E' appunto Di San Giovanni Rotondo Un posto Un posto dove il tempo Il tempo sembra Essersi fermato Certo E' quindi praticamente Una situazione Molto suggestiva Laddove era Lo stesso padre Pio Il primo Devoto Dell'Arcangelo Michele E diceva a tutti I suoi fedeli Che prima di recarsi In visita da lui Dovevano passare A salutare San Michele Per fare una preghiera E chiedere Come tutti i grandi E si metteva sempre Dietro Dietro agli ultimi Sta anche in questo La grandezza Delle persone Senti Michele Possiamo dire Che tanto Comunque Ci vogliono Almeno due giorni Cioè praticamente Almeno una notte Si deve dormire Almeno una notte Almeno una notte Perché sennò Veramente Anche da Roma Seppur vero Che sono vicine Non è che è molto lontano Ma si deve dormire In una notte O nel Beneventano Magari Oppure Diciamo direttamente Sul posto Possiamo dire Che ci sono Per tutti i prezzi E soprattutto Anche le mezze pensioni Sono ancora accettabili Diciamo che Con 60 65 euro Si riesce a fare Una mezza pensione In un buon tre stelle Nel contesto Assolutamente Sì Anzi In alcuni periodi Dell'anno E in alcuni giorni Della settimana Che rimangono Diciamo lontani Dall'weekend Che sono le giornate Più richieste È possibile Anche con molto meno Riuscire ad ottenere Una mezza pensione Grosso modo Intorno ai 50 euro Se parliamo Di giorni individuali E grosso modo Intorno ai 35-40 Se parliamo Di viaggi Di gruppo Esatto Sì Sicuramente Diciamo Recenti Studi E indagini Condotti Da TripAdvisor Hanno indicato San Giovanni Rotondo Come Una delle località Più convenienti In Italia Dal punto di vista Della Diciamo Della sistemazione Alberghiera Certo Quindi Possibilità Varie possibilità Ce ne sono Sì Per tutte le tasche Dagli hotel Di categoria superiore Quattro stelle Quattro stelle superiore Fino ad arrivare anche Ai famosi Bed and breakfast E affittacamere Situazioni Molto ma molto Diffuse Nella zona Di San Giovanni Rotondo E che La camera Internotamente Prima colazione A camera Grosso modo Viene a costare Intorno alle 35-40 euro Questa Ancora Tipologia Di strutture Ancora accettabili Certo Senti Io intanto Voglio mandare i saluti Anche ad Ashiba Grippo che fa parte Del gruppo di appassionati Del pastore Redesco Ricordiamoci Che È sempre Diciamo La passione Per gli animali Da parte di Viaggio e Veto È eccezionale Infatti mi sono Iscritto con Tanta Passione A questo gruppo E ti mando i miei saluti E grazie per il lavoro Che fai Anche perché Ricordiamo che gli animali Sono benvenuti Anche in tante strutture Anche lì Nella Nella parte Diciamo Di San Giovanni Rotondo Ci sono anche Diverse strutture Di animali Sono accolti bene Nessuno Figlierà nulla L'importante Il Gargano Poi tra l'altro È una destinazione Animal friendly Quindi Tutti Gli amici A quattro zampe Sono Assolutamente Benvenuti Allora Faremo in modo Di appunto Di Ashiba Che la chiameremo Se gli fa piacere Intervenire In radio È sempre La benvenuta Da chiunque Fa del bene Agli nostri amici A quattro zampe Ci fai come si È nostro amico In poche parole Via Diciamo così Bene Assolutamente Michele Allora Io ti lascio Il tuo lavoro Noi ci risentiamo Poi per i nostri Diciamo Appuntamenti professionali Magari più tardi Nel pomeriggio Grazie Che In te Essere intervenuto E ricordiamo Che insieme a te Faremo una Buona stagione Come sempre Con lo slogan Piglia Qui La Puglia È giusto Michele? Assolutamente Sì Invito tutti i radioascoltatori A recarsi All'agenzia Viaggio e Vedo Di Di Gianluigi Per Venirci a trovare Qui in Puglia A organizzare Le proprie vacanze Allora Dillo tu in pugliese Piglia Qui la Puglia Piglia Qui la Puglia Eh vedi È differente Grazie a te Aguri Buona giornata Michele Un abbraccio Anche a te Ciao Un abbraccio Allora Chiarissimi amici All'ascolto Noi ci fa sempre piacere Ecco se Adesso parleremo Un po' Della formazione Come agenti di viaggio Noi Abbiamo Fra poco Un minuto di pubblicità E sentiamo poi La nostra amica Sara Del gruppo Open Travel Network Con cui Di esperienza Ed una grande passione Per i viaggi Ti aspettano Nell'agenzia Viaggio e Vedo Professionisti del turismo Organizzeranno Oltre alle tue vacanze Viaggi e liste nozze Crociere Viaggi di gruppo Soggiorni in castelli Escursioni in barcavela Ed agriturismi Prenota la famosa Passeggiata romana A soli 25 euro Cena inclusa Inoltre Biglietti d'aereo Traghetti Alberghi E viaggi per tutte le tasche Con weekend a partire Da 99 euro A coppia Visita il sito Viaggioevedo.it O la pagina Facebook Cuore e Coccole Agenzia Viaggio e Vedo A Roma In via Bartolo Longo 1 Telefono 06 41 03636 Viaggio e Vedo Viaggio e Vedo Protagonisti del tuo tempo libero A Roma A Roma Grazie a tutti 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 Dove Grazie a tutti 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 Eccoci Grazie a tutti 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 e quindi Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti